Buongiorno, buonasera, Marco Pt. Disquisizioni tecniche sull'ingaggio del bilanciere nel front squat. Il front squat è una cosciata frontale. Il bilanciere viene appoggiato sull'esterno claveare e viene sostenuto, il peso del bilanciere, il peso del carico viene sostenuto interamente dalle clavicole. Le mani servono più che altro per tenere stabile il bilanciere e impedire che rotoli in avanti. Durante le mie sessioni uno dei compiti più difficili è proprio quello di insegnare al cliente come sostenere correttamente il bilanciere e come impugnarlo correttamente. Allora, superato lo scoglio iniziale, che è quello di sopportare il contatto del metallo sulle ossa, un frangente che richiede un certo condizionamento osteoarticolare, il punto più duro è quello di gestire l'impugnatura del bilanciere. Chiaramente, essendo il bilanciere sostenuto dal corpo, le mani vanno disposte in modo da non creare interferenza e di consentire una pratica agevole dell'esercizio e quindi di portare a termine tutte le serie, le ripetizioni previste senza dover riassettare il bilanciere. Allora, una volta appoggiato il bilanciere, il tipico errore che spesso fanno i principianti è quello di cercare di aggrapparsi al bilanciere quando si usa la presa incrociata. Ed è quello che intendo mostrarvi in dettaglio in questo clip. Come avete visto, la presa comunemente utilizzata da un principiante è quella che artiglia il bilanciere, come un uccellino che si attacca al ramo per sostenersi, con le dita. Attaccarsi al bilanciere con le dita tende a trascinare verso il basso la sbarra e quindi tende a ridurre la stabilità del bilanciere sul vostro corpo. La presa corretta non è questa, non c'è una vera presa nel front squat, nello squat frontale quando si utilizza le impugnature incrociate. Quando si utilizza le impugnature incrociate, il modo più intelligente di procedere è quello di applicare pressione, non di togliere il bilanciere. Quindi con pollice e indice, per ciascuna mano, spingere dolcemente, dolcemente, la sbarra contro la trachea. Quindi incastrare il bilanciere tra la clavicola e la trachea. In questo modo il peso è sostenuto dalle clavicole e pollici e indici fanno da supporto per impedire che il bilanciere arrotoli in avanti. Poi c'è una seconda presa, c'è una seconda variante di impugnatura nel front squat ed è la cosiddetta presa olimpionica. In realtà è semplicemente la presa convenzionale, la presa che si usa normalmente, che richiede una certa elasticità. Anche in questo caso ci sono degli errori abbastanza comuni quando si decide di utilizzare la presa da sotto, cosiddetta oggi olimpionica. Come avete visto, uno dei classici errori quando si fa la presa da sotto è quella di sollevare il cingolo scapolare e utilizzare due dita per tenere il bilanciere, anzi per tenere le mani appese al bilanciere e di eseguire in questo modo l'esercizio. È una presa molto dispersiva, consuma parecchia energia, soprattutto a carico dei trapezzi e non è una presa, non è un'impugnatura conveniente. Un modo più intelligente di procedere in questo caso è quello di avvolgere almeno quattro dita, escludendo eventualmente il mignolo, e di sostenere sempre con le clavicole il peso lasciando i gomiti morbidi in grado di sollevarsi, in grado di alzarsi, senza creare interferenza e senza produrre spreco di energia. Altre considerazioni post video Allora, il front squat secondo me ha diversi vantaggi rispetto al back squat Innanzitutto il front squat non ha praticamente varianti ha un appoggio, una base, si presta molto meglio alla massima profondità alla famosa ass to the grass, depth, rispetto al back squat Il back squat invece ha tante varianti c'è l'appoggio high bar, l'appoggio low bar, c'è la wide stance, la narrow stance Inoltre il squat frontale non è tanto vincolato da supporti, da attrezzature di supporto mentre il back squat spesso e volentieri richiede, e io le raccomando cinture per tenere ferma la colonna vertebrale ginocchiere, scarpette rialzate Addirittura in certe competizioni si utilizza il monolift che è una specie di castello con dei ganci da sopra che permettono all'atleta di ingaggiare il bilanciere e di fare l'esercizio senza dover camminare avanti e indietro comunque per quanto mi riguarda, stringendo il discorso, ritengo il front squat una variante più naturale di accosciata con bilanciere una variante che secondo me è anche più funzionale nella vita quotidiana, nella vita di tutti i giorni è un'accosciata che ha tanto da dare anche agli atleti per esempio di mixed martial arts o di discipline lottatorie in cui bisogna spesso nelle fasi di corpo a corpo più intense addirittura sollevare un avversario per poi deporlo non troppo delicatamente al suolo quindi io consiglio a chi volesse approcciarsi a questo esercizio di avere pazienza, di assimilarlo, di impararlo e una volta assimilato difficilmente costui tornerà a fare back squat che io considero un'alzata inferiore ulteriori note per quanto riguarda il lavoro da fare per la flessibilità, per la mobilità c'è sempre una routine di allungamento muscolare che può accompagnarsi al front squat io personalmente da molti anni, da quasi un ventennio, riesco a fare senza nessun problema il front squat schiacciato anche a freddo senza problemi però mi rendo conto che magari un neofita che voglia cominciare ad acquisire queste abilità debba almeno all'inizio accompagnarsi a una routine di allungamento muscolare che deve essere incorporata nelle sessioni di front squat questa è una serie di tip tecnici che intendo fare su tutte le alzate che io reputo importanti se ci fosse interesse al riguardo sarò lieto di aggiungere altri capitoli a questa diciamo mini serie Marco Pt, grazie per l'attenzione, alla prossima